Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove per lavori ci sono rallentamenti tra Montelupo Fiorentino e la Strassigna, in direzione Firenze, e tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina, in direzione Livorno. A Firenze è cambiata la viabilità in Piazza della Libertà e Via Lorenzo il Magnifico. I provvedimenti rimarranno in vigore anche una volta realizzata la nuova linea della tramvia. Si ricorda che l'11 gennaio torneranno a scuola anche gli studenti delle superiori. Nuova fase per quanto riguarda l'organizzazione del trasporto pubblico. Aggiornamenti sui canali social di Muoversi in Toscana e si ricorda che il numero verde per gli utenti del TPL è 857 05 30. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!